Ciao a tutti e bentrovati sul mio canale Veri ASMR quello che state per guardare è un nuovo video rilassante e il tema come avrete letto dal titolo è il Back to School in questo video in particolare voglio mostrarvi come decoro e come compilo il mio diario agenda ASMR ve l'ho mostrato già in un vecchio video però questa è la versione definitiva ed è anche quella che sicuramente avrete visto in altri video di altri creators ASMR che hanno partecipato al progetto sono emozionati sì ma non vedo l'ora di farvi vedere che cosa ho intenzione di fare con questo diario spero possa piacervi e soprattutto spero che la mia voce in whispering quindi con questo tono sussurrato possa rilassarvi insieme anche ai suonini della carta e del tapping con le mie unghiette ancora per poco celesti è possibile tra l'altro che sentiate qualche rumorino di sottofondo e questo perché sto registrando in pieno pomeriggio quindi ci sono ovviamente i suoni della strada però vi consiglio ti consiglio di indossare le cuffie oppure gli auricolari e come al solito di stenderti in un posto comodo per guardare e ascoltare questo video e in più se ancora non l'hai fatto ti invito a iscriverti al mio canale e naturalmente di attivare la campanellina qui sotto per non perdere i prossimi video rilassanti lascia un mi piace se l'idea ti piace e noi iniziamo prima di girare l'inquadratura e quindi mostrarvi cosa andrò a scrivere e che cosa farò su questa agenda su questo diario agenda vi chiedo se per voi le scuole inizieranno senza altre indicazioni il 14 mi sembra che sia la data stabilita però non ho indicazioni su come saranno organizzati per la questione dei banchi delle entrate forse a scaglioni fatemi sapere se anche non andate a scuola ma magari all'università fatemi sapere se ci saranno i corsi questa agenda è sicuramente valida anche per chi vuole semplicemente organizzare l'anno lavorativo non necessariamente per chi va a scuola oppure all'università io ve la ripresento ufficialmente in questo video ricordandovi che giù nell'info box c'è il link di Amazon per acquistarla potete acquistarla anche con Amazon Prime per riceverla quindi praticamente il giorno dopo il vostro ordine e ovviamente è anche disponibile nelle librerie se non la trovate potete ordinarla dunque 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 intanto qualche suono questo è il mio preferito però anche la copertina che è abbastanza rigida non è niente male e poi in copertina c'è appunto questo logo che ho creato con il cuore e le cuffie e qui il segno dei battiti e sotto la scritta A S M R con questo font allora qui dietro è fatta così e potete trovare la scritta quella che stai sfogliando è la prima e unica agenda smr al mondo e vi spiego un po' come funziona anche se ormai lo saprete sicuramente allora l'agenda contiene diversi contenuti interattivi cosa significa? significa che ogni primo giorno del mese troverete un QR code da scannerizzare che vi porterà ad una pagina a un sito internet dove potrete ascoltare una traccia audio che sarà dedicata all'argomento del mese vi mostrerò infatti il mese di settembre che per esempio è dedicato al planning vi dà dei consigli su come organizzare al meglio il vostro tempo e anche la vostra giornata la vostra agenda non solo non solo l'interattività dell'agenda sta sta anche nel fatto che sempre ad ogni mese ci sono delle pagine speciali qui per esempio ce n'è una che vi invitano a fare delle esperienze ASMR questa per esempio è una carta molto particolare con dei puntini e l'esperienza consigliata proprio qui chiamata esperienze ASMR numero uno è unisci i puntini e qui ci ho scritto appunto che questo è un metodo efficace per aumentare la concentrazione e liberare la tua mente creativa con una matita dovrai unire i puntini nella prossima pagina creando una forma a piacere lasciando ti guidare dall'istinto e senza preoccuparti di seguire una logica alla fine del disegno ti domanda che cosa rappresenta ma ovviamente non è l'unica esperienza dell'agenda infatti ce ne sono proprio tante quella che forse avrete visto più di frequente nei video di presentazione degli altri ASMR artist è la famosa pagina ancora questa è un'esperienza ASMR di natura tattile ma c'è veramente molto molto altro per esempio una cosa che mi piace tanto è questo questa è l'esperienza ASMR numero 7 e si chiama scrivi piega e strappa vedete qui c'è la presentazione come fare su ciascuna sezione della prossima pagina scrivi un pensiero di cui vorresti liberarti poi piega il foglio lungo le linee tratteggiate e fate il tuo meglio per strappare via ogni striscia di negatività vedete qui si possono scrivere i pensieri negativi poi piegare il cartoncino e impegnarsi a strappare via ogni striscia secondo me questo è un esercizio veramente molto utile un'altra cosa che ci tengo a dirvi è che proprio a metà di questa agenda c'è una sezione che adesso vi mostro ecco in questa sezione che si chiama trova il tuo trigger ci sono i contenuti audio di vari artisti ASMR che hanno collaborato come vi dicevo prima alla realizzazione di questo progetto e sono un bel po' e scansionando il loro keyword code arriverete sempre a una pagina del sito in cui potete trovare il loro audio questo serve innanzitutto per darvi l'opportunità di conoscere altri canali ASMR italiani ma anche per darvi l'opportunità di sperimentare dei trigger che magari non avevate mai preso in considerazione e cercare di comprendere quale sia quello che più vi piace quello che più vi scatena l'ASMR con l'occasione ringrazio di nuovo tutti 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 gli ASMR artist che hanno otterito il progetto e spero che anche per loro sia stata un'esperienza di super positività realizzare questo diario che mancava nel nostro mondo volevo anche dirvi che alcune persone mi hanno segnalato che nella loro copia la scansione del codice QR di Black Moon ASMR velia che saluto non rimanda a una pagina specifica non succede in tutte le copie ma probabilmente è accaduto in alcune copie che sono state stampate all'inizio se per caso nella vostra versione di stampa è presente questo problema niente paura non vi preoccupate perché è comunque possibile accedere all'audio di Black Moon ASMR cioè velia dalla pagina principale detto questo io cambierai inquadratura per mostrarvi più nello specifico l'agenda ma soprattutto per compilarla insieme che ne pensate vi ricordo ovviamente di cliccare il link nell'info box se ne volete uno anche voi questo è il colore della copertina che alla fine è stato scelto proprio da voi che l'avete preordinata e quindi sono molto molto mandata perché era anche il mio preferito bene non ci resta che passare alla compilazione ok questa è l'agenda e qui ho anche alcuni adesivi che fanno parte di vecchie agende che mi sono avanzati oppure presi in cartolleria quindi adesso cercherò innanzitutto di compilare la parte iniziale quella con il nome insomma e tutte le altre cosine e poi magari applicherò anche qualche adesivo vediamo un po' ecco lo spazio per la dedica lo lascio in bianco qui come potete vedere c'è il calendario annuale e qui le istruzioni per l'uso eccoci arrivati alla prima pagina da compilare lo farò con la penna blu allora nome tagliamo l'anello magari che è più comodo mail feriasmr canto legumeli .com social facebook facebook feriasmr instagram feriasmr tiktok feriasmr data di nascita 6 matto le altre informazioni sono un po' più personali quindi le compilerò dopo poi vediamo questo mi piace adoro follemente colore porto chissà se l'avete indovinato posto del mondo ci devo pensare ci devo pensare frutto invece questo lo so pesca stagione vediamo se indovinate naturalmente la primavera migliore amicizia quindi un po' chissà jessi claudia virgine vino serie tv ce ne sono troppe che mi piattono non sono troppo indecisa devo pensare anche questo cantante ce ne sono due a pari merito l'uno è di Andre e l'altro è di Gregori libro metterai il piccolo principe trigger whispery e tapping mi manca la canzone la serie tipo il posto del mondo e l'ASMR Artist questo in realtà varia di volta in volta anche se forse il mio preferito come stile per originalità e contenuti è ASMR Zeitgeist però vediamo un po' se c'è qualche adesino che sembri pertinente a queste pagine metterei un cuorecino qui andiamo avanti qui c'è l'orario però non compilo perché al momento non ho un orario definito qui c'è un test un quiz più che altro che se volete potete provare a fare poi alla fine dell'agenda ci sono le risposte e qui l'esperienza ASMR di cui ho parlato all'inizio direi di provare a farla per farlo direi di mettere la pagina posizionata in questo modo così ho una superficie un po' più scura per poter unire i puntini e prendiamoci questi due minuti di rilassamento cercando di liberare la mente e lasciarci guidare dalla fantasia molto probabilmente verrà qualcosa di non senso di rilassamento di rilassamento di rilassamento di rilassamento Sembrerebbe un coniglietto Seduto Con una stella al posto della coda Naturalmente Questa operazione potrebbe durare Molito di più Però oggi mi fermo qui Poi magari un altro giorno Mi dedicherò a fare altri disegni Tanto c'è un sacco di spazio E anche la parte Posterior ovviamente Andando avanti Come vi accennavo C'è la parte relativa Al blending Questo mese, il mese di settembre Vi da alcuni consigli E il QR code da scannerizzare E qui c'è Esprimi un desiderio Film da non perdere Questi da fare Come vedete Ho già scritto qualcosa Sugli acquisti da fare Però per quanto riguarda Il film da non perdere Voglio aggiungere Una serie tipo Che voglio continuare a vedere E un film che voglio rivedere Metterai con la penna rossa Quindi E Come hai metto la tua madre E la grande bellezza Metterai con la penna rossa Allora riuscire a essere serena e a pensare di più a me e se trovo se trovo una stellina cadente o anche una stellina normale la metto andiamo a avere questi tesi ha una stellina normale e quindi la mettiamo ecco qui e poi qui c'è il consiglio del trigger del mese Flipping pages sfoglia le pagine del tuo libro preferito da fare per rilassarsi durante il mese di settembre non mi soffermo troppo sugli impegni delle mie settimane ma volevo farvi vedere che per esempio nella giornata di domenica vi faccio vedere la prossima quella del 13 che è ancora vuota c'è video smr preferito a livello di stress qualità del sonno e utilizzo dei social da compilare quindi devo scrivere un impegno che ho per lunedì 14 come vedete poi a ogni giorno corrisponde un pensiero felice quindi un aforismo diciamo che è in tema con il tema del mese appunto abbiamo detto che il settembre è il mese del planning qui è un appuntamento che devo ricordarmi per il lunedì 14 e ci voglio anche mettere un corsetto questo adesivo c'è un adesivo che volevo mettere il 31 agosto come ricordo per l'estate strada di queste due conchiglie carine adesso vi mostro un po' in generale alcune cose che potete trovare nell'agenda per esempio l'esperienza smr numero 3 si tratta di colorare questo mandala questa esperienza smr infatti è proprio nel mese dedicato alla meditazione novembre va bene non vi spoilerò altro spero che possa piacervi questo diario agenda mi raccomando ricordatevi di farmi sapere se lo acquistate e trovate nell'info box il link diretto ad amazon l'altra cosa carina si era che per esempio alla fine di ogni mese c'è una pagina per gli appunti mi sta molto comodo e alla fine dell'agenda ecco questo per esempio lo potrei compilare già da ora c'è uno spazio per i compleanni il glossario con i termini della smr le risposte al qualsiasi le firme dei miei migliori amici la rubrica con i contatti più importanti qui vediamo un po' vabbè ad agosto per ora lasciamo questi bene il resto nei prossimi mesi per ora e niente ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto mi raccomando fatemelo sapere lasciando un pollicino in su e naturalmente un segno del vostro passaggio un commentino fatemi sapere anche se avete già preso l'agenda nel caso tagcatemi su instagram in qualche storia oppure inviatemi dei messaggi per farmelo sapere appunto e nel caso mi tagchiate sarò felicissima di ricondividere le vostre storie spero che siate contenti di questo video un po' lunghetto e per tutto quello che concerne le spedizioni e altri fattori tecnici relativi all'agenda la distribuzione mi raccomando scrivete alla casa editrice perchè ovviamente io l'ho solo scritta quindi non mi occupo né della distribuzione né di tutto il resto l'ho scritta e l'ho anche autografata per tutti coloro che hanno effettuato i preordini in questa pagina iniziale che ho scritto la tua dedica spero che siate contenti di questo per tutti gli altri comunque non temete perchè ho intenzione di organizzare un raduno e magari chi ha questa agenda potrà avere una dedica se vorrà scritta lì sul momento bene per il resto non mi resta che augurarvi una buona 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 buonissima notte un buon riposo e noi ci vediamo come lo solito se vi va nel prossimo video bacini fatosi ciao 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 ciao